Una stretta, quella del disegno di legge sul divieto di Cannabis Light in Italia, di cui non si sentiva la necessità dal vago sapore ideologico e demagogico, e che avrebbe l'unico effetto di mettere in ginocchio un sistema produttivo economico composto di almeno 15.000 addetti senza contare l'indotto, e andrebbe a colpire immortalmente l'intera filiera che va dalla coltivazione alla produzione di cosmetici e florovivaismo in genere. Il provvedimento passerà a Camera e Senato non prima di settembre. Quanto basta per far scendere in trincea chi ritiene questa decisione assolutamente inopportuna, a cominciare da tutte le associazioni di categoria in campo agricolo, centinaia di imprenditori, partiti d'opposizione e il Partito della Rifondazione Comunista, che stamani in conferenza stampa ha annunciato l'avvio di una campagna per invitare centinaia di parlamentari, anche di maggioranza, a votare contro questa misura. Parliamo di una confusione creata dal governo che confonde la cannabis a scopo ricreativo col principio psicoattivo, con la cannabis che non è sostanza psicotropa e che in questo momento viene venduta legalmente. Un'intera filiera viene messa in crisi e tutto questo è contro il lavoro, è assolutamente irrazionale e noi sfidiamo al confronto tutti i parlamentari abruzzesi di centro-destra a misurarsi con le imprese del settore. Ricordo che tutte le organizzazioni del mondo agricolo si sono schierate contro questo provvedimento che non ha a che fare con le droghe, se si può parlare di droga per la cannabis, ma ha a che fare con l'agricoltura, la produzione, il commercio di una sostanza e un'assurdità, è come se in Italia si vietasse la camomilla. La vicenda di Lucio Boschi che ha avviato una start-up tra l'altro finanziata con soldi pubblici e che ora rischia di non poterli ridare indietro per via appunto di questo provvedimento. Sì, questo è un provvedimento estremamente dannoso per una start-up giovane che impiega giovani e che si vede costretta a dover ricorrere a mezzi propri per poter far fronte alla restituzione di un prestito che è avvenuto a livello ministeriale, che quindi ha apprezzato il lavoro fatto in termini scientifici e produttivi in questo settore. Non abbiamo solo dei dipendenti, abbiamo dei fornitori che paghiamo regolarmente. portiamo ricchezza allo Stato sotto forma di tasse, di contributi e quindi la domanda è cosa manca perché ci venga conferita a pieno titolo la dignità di vero e proprio settore economico. Abbiamo dei ministri che vanno in giro a sponsorizzare il consumo di vino, nulla è il contrario se si spiega che se ci si ubriaca tutti i giorni si diventa alcolisti e fa male, ma e poi vuole vietare la cannabis light, è un'assoluta follia a scopo demagogico che danneggia il lavoro.